Ma questo è il mio auspicio senz'altro, di poter coinvolgere anche l'opposizione vista la gravità del momento, visto il fatto che stiamo introducendo delle misure sicuramente non ordinarie. Domani avremo un confronto con le opposizioni, le forze di opposizione per discutere misure economiche. Abbiamo avuto già due incontri con le forze di opposizione per quanto riguarda l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando, domani specificamente per le misure economiche. Da questo punto di vista mi sono premurato anche di informare adesso a ridosso di questa conferenza le opposizioni. Stamattina ho sentito il ministro Salvini, lo ha anche dichiarato lui, mi aveva cercato. C'è un contatto anche con le opposizioni perché in questo momento siamo tutti sulla stessa barca, quindi la responsabilità di queste misure è la nostra, di chi ha la responsabilità di governo, ma è evidente che è giusto che le opposizioni siano coinvolte e possano comprendere e condividere le ragioni di queste misure.